Credevi fosse sufficiente fare in questo modo, vero? E invece non è così. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vedremo insieme come eliminare definitivamente i dati dai nostri dispositivi con Shred. Contrariamente a quanto si possa credere, formattare un dispositivo così come abbiamo visto poco fa non ci garantisce l'eliminazione definitiva dei file. Questo perché questa procedura si limita solo ed esclusivamente alla eliminazione dei riferimenti dei file dal nostro disco. I dati invece sono ancora lì in attesa di una successiva sovrascrittura. Chiunque con uno strumento di ripristino dati può quindi procedere al recupero delle nostre informazioni sensibili. Immaginate quindi cosa possa accadere se un malintenzionato si mettesse a recuperare i nostri dati dopo che gli abbiamo venduto il computer. Per eliminare definitivamente i dati dai nostri dispositivi si consiglia quindi di eseguire scritture continue di dati pseudo casuali sulla superficie dei nostri dischi. Questo renderà quantomeno difficile se non impossibile il recupero delle informazioni dagli stessi. Per farciò oggi utilizzeremo una utility di NoMeshRed presente sulla maggior parte delle distribuzioni Linux presenti sul mercato. Prima di procedere come al solito io vi invito ad iscrivervi sia al mio canale YouTube che al mio canale Telegram, vi lascio il link in descrizione, per restare sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video, corsi o aggiornamenti in generale. Per prima cosa dobbiamo scaricare una live di Ubuntu. Per farciò apriamo il browser e navighiamo verso www.ubuntu-it.org. All'interno di questa pagina andiamo a scaricare una delle ultime versioni di Ubuntu. Va benissimo scaricare sia l'LTS e sia l'ultima release, in questo caso Ubuntu 2310. dopodiché clicchiamo su avvia il download. Fatto questo attendiamo quindi che il download vada a buon fine. Nel frattempo dobbiamo procurarci una chiavetta USB da almeno 8 GB e dobbiamo anche scaricare il software Rufus per poter flashare la live di Ubuntu sulla chiavetta USB. Navighiamo quindi su rufus.yes.it e all'interno di questa pagina andiamo a scaricare l'ultima versione di Rufus. In questo caso io vado a scaricare Rufus 4.4.exe così da poterlo installare sul mio sistema operativo Windows. Adesso inseriamo la chiavetta USB nel nostro computer, avviamo Rufus, clicchiamo sul bottone seleziona. Andiamo a selezionare l'immagine di Ubuntu che abbiamo appena scaricato, clicchiamo su apri. Dopodiché lasciamo tutto a default e clicchiamo su avvia. Anche qui scriviamo l'immagine in formato ISO, se mai non dovessimo riuscire ad avviare la live, ricreiamo la chiavetta USB scrivendo l'immagine in modalità DD. Clicchiamo su ok. Nel caso in cui dovesse comparire questo messaggio che ci richiede di scaricare una versione di Grab differente, clicchiamo su sì. Dopodiché clicchiamo su ok e procediamo con la formattazione della nostra chiavetta USB. Mi raccomando salviamo preventivamente i nostri dati se mai ne avessimo qualcuno sulla chiavetta USB che intendiamo utilizzare. Al termine della procedura chiudiamo Rufus, eventualmente rimuoviamo la chiavetta USB per poterla utilizzare sul computer di riferimento, riavviamo il computer, impostiamo la priorità di boot nel nostro BIOS e avviamo Ubuntu Live. Nel mio caso a riavvio successivo ho premuto ripetutamente F8 per mostrare il boot menu. A questo punto vado a selezionare la chiavetta USB. All'interno di questa schermata selezioniamo Try or Install Ubuntu. All'interno di questa schermata andiamo a selezionare l'italiano, clicchiamo su next, dopodiché scegliamo Prova Ubuntu e poi next. Ora prima di avviare Shred per poter eliminare definitivamente tutti i dati dal nostro dispositivo andiamo prima di tutto a identificare qual è questo dispositivo. Quindi clicchiamo su questo pulsante e scriviamo disk. Apriamo disks e qui sulla sinistra andiamo a scegliere il modello del nostro disco da utilizzare. Nel mio caso il disco è da 160 GB ed è un disco Western Digital, probabilmente è questo qui. Dobbiamo andare a identificare l'indirizzo del nostro dispositivo che è presente sotto la voce device, in questo caso dev slash sdb. Non prendiamo in considerazione il numero in quanto quell'informazione rappresenta la partizione di riferimento. Infatti se vado a selezionare altre partizioni questo numero cambia. Qui andando invece a selezionare lo spazio vuoto l'indirizzo è proprio dev sdb. Quindi quando andremo ad eseguire la utility shred dovremo utilizzare questo indirizzo qui. Adesso mettiamo un attimo da parte disks e avviamo il terminale. Clicchiamo sempre su show apps e digitiamo terminal. Premiamo invio. Dentro il terminale digitiamo shred trattino trattino help. Allarghiamo la finestra e cerchiamo di capire come utilizzare questo strumento. Tipicamente i parametri che andremo a modulare sono rispettivamente il numero di iterazioni, quindi iterations o trattino n. Possiamo scegliere se attivare o meno la verbose mode e quindi mostrare il progresso, l'avanzamento del processo ed eventualmente possiamo utilizzare il parametro meno z o trattino trattino zero per poter eseguire una scrittura finale di zeri sulla superficie del disco o del nostro ssd. Tipicamente io consiglio di lasciare tutto a default quindi eseguire comunque tre iterazioni, abilitare la verbose mode per capire a che punto del processo ci ritroviamo ed eseguire una scrittura finale di zeri per eliminare completamente i dati dalla superficie del disco. Ora questa procedura va benissimo per i dischi meccanici e un po' meno per gli ssd. Questo perché gli ssd soffrono un po' di più le scritture eccessive all'interno delle celle di memoria. Quindi per gli ssd io consiglio di impostare il numero di iterazioni a 1. Bene una volta capito come utilizzare shred andiamo ad eseguirlo sul nostro disco per scrivere dati pseudo casuali e poi sequenze di zero. L'istruzione da dare sarà sudo shred meno z perché abbiamo detto vogliamo scrivere sequenze di zero come ultimo step meno v per attivare la verbose mode e quindi conoscere il progresso. Dopodiché dobbiamo inserire l'indirizzo del nostro device. In questo caso sarà dev sdb. Ricontrolliamo per l'ultima volta la correttezza di questo indirizzo. Dopodiché premiamo invio. Che cosa possiamo capire dall'output? Che verranno eseguite quattro iterazioni, le prime tre per scrivere dati pseudo casuali e l'ultima per scrivere degli zero. Io al momento annulo la procedura per farvi vedere l'equivalente per ssd. Riprendiamo quindi la stessa istruzione sudo shred meno z meno v dev sdb e prima di z andiamo ad inserire meno n per specificare il numero di iterazioni. In questo caso io vi consiglio di impostare 1 in modo tale da avere una iterazione di dati pseudo casuali e una iterazione di dati zero. Digitiamo invio. Come possiamo notare in questo momento per lo step 1 su 2 stiamo scrivendo dati pseudo casuali sulla superficie del nostro disco. Nello step 2 su 2 scriveremo verosimilmente dati di tipo zero sulla superficie del nostro disco. In questo modo possiamo assicurarci di sovrascrivere i dati presenti sul nostro disco, sul nostro ssd in modo tale che nessuno possa tentare di recuperarli. Attendiamo quindi che la procedura vada a buon fine. Tipicamente questo processo richiede qualche ora. Il processo si allunga all'aumentare della dimensione del disco e soprattutto all'aumentare della quantità di iterazioni da eseguire. Al termine della procedura dopo che sono stati eseguiti tutti i passaggi, quest'ultimo è particolare in quanto possiamo notare che fra parentesi ci sono degli zeri, sintomo che appunto l'ultimo step è stato eseguito scrivendo degli zeri sulla superficie del disco, possiamo chiudere il nostro terminale e spegnere il computer. Adesso abbiamo quindi quasi l'assoluta certezza che tutti i dati presenti sul disco sono stati rimossi definitivamente. Per spegnere il sistema qui in alto a destra clicchiamo su questo pulsante qui e poi selezioniamo power off. Confermiamo power off, dopodiché rimuoviamo la chiavetta usb, premiamo invio. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere con un commento qui sotto che cosa ne pensate in merito all'uso di questo approccio per eliminare definitivamente i dati dalla superficie dei nostri dischi. Se avete dubbi, domande o perplessità non esitate a lasciare un commento qui sotto, sarò felice di rispondere alle vostre domande. Se il video vi è piaciuto io vi invito a lasciare un like, se i miei video vi piacciono vi invito anche ad iscrivervi al mio canale YouTube e soprattutto ad attivare la campanellina per restare sempre puntualmente aggiornati sull'uscita di nuovi video. Per oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!